Chiuse le amministrative con i ballottaggi di Ieri ad Ortone e San Salvo e tempo di bilanci e di analisi del voto in Abruzzo per i vari partiti. E questa mattina a parlare dell'esito elettorale è stato a Pescara il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina, che ha anche illustrato le priorità del PD, parlando poi delle amministrative dell'Aquila, che hanno visto la sconfitta del partito. Un K.O. ha detto Fina doloroso e che dovrà servire di lezione per non correre più divisi. In questa tornata c'è stata sostanzialmente la conferma di tutti i sindaci o le compagini politiche uscenti, tutti e cinque comuni sopra 15 mila abitanti, ma il PD avanza, è primo partito, avanza in Italia. Oggi facciamo il bilancio anche degli ultimi tre anni, perché da questo si può vedere come c'è stato un avanzamento, sempre nel rispetto delle specificità locali. Io penso davvero, lo dico sempre, ma con molta convinzione e fermezza, che il gioco del risico a mettere le bandierine nei comuni non ha senso, non è rispettoso delle specificità del territorio, perché ognuno sceglie i propri amministratori al di là delle appartenenze e soprattutto non dà un senso generale. Quindi noi oggi diremo come vogliamo lavorare per costruire l'alternativa al Presidente Marsilio, perché c'è bisogno di concentrarsi sui temi, a partire dalla povertà, dal lavoro, dalla povertà energetica. Insisteremo molto su questo, noi vogliamo davvero essere il partito del lavoro e dell'uguaglianza per questa regione. Mai più divisioni, l'idea che qualcuno aveva, marciare divisi per colpire uniti, ecco questa fausta citazione, non funziona, prevale sempre l'unità, prevale la capacità di innovare, di cambiare, di essere in sintonia con la città. E quindi riconosciamo questa come una sconfitta dolorosa, di cui siamo molto dispiaciuti, ma abbiamo ben chiaro che cosa fare. Per adesso, come Partito Democratico, abbiamo alzerato tutto, ricostruiremo da capo, con uno spirito profondamente coalizionale, mai più divisi, mai più la rinuncia a tutta la fatica che serve per mettere insieme, unire i civici e i progressisti che possono tornare a guidare le città e la regione.